Anche il figlio dell'Alonardo, Pellegrino Mastella, risulta tra gli indagati. Spero che l'Alonardo possa, insieme agli altri consiglieri, dimostrare la propria estraneità ai fatti, ma c'è un dato oggettivo, c'è una questione morale aperta in questa regione, nella politica e in tutte le forze politiche. Non possiamo lasciare solo ed esclusivamente alla magistratura il compito di fare pulizia. Bisogna rievocare quella famosa lettera di Berlinguer, la questione morale a Scalfre del 1981, perché è una questione tutta aperta, perché il problema serio è che c'è una sfiducia generale nei confronti del centro-sinistra e del centro-destra ed è necessaria una vera e propria autocritica all'interno di ogni forza politica, perché il problema non è sia governare il centro-destra o il centro-sinistra, il problema serio è che su questo territorio esiste oltre la politica un solo potere costituito, la camorra, e dopo il centro-destra e il centro-sinistra ci potrebbe essere solo ed esclusivamente la camorra.